Continuiamo, ancora una concorrente di questa fase di Extra Time Extra Time, Extra Time I riflettori di Extra Time sono puntati su Corinne Schillizzi Corinne Schillizzi Allora, effettuato il pro memoria delle due canzoni assegnate a Corinne Qualcosa mi dice dal vostro abbigliamento che cominciamo con la canzone della Simone Molinari? Sì, sì, assolutamente Allora, in cerca di te, Corinne Schillizzi Grazie 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 Grazie